Dunque, siamo da Mazzucchelli e con la signora Deborah dell'ufficio marketing parliamo di qual è il successo di questo negozio. Parlare vuol dire innanzitutto parlare di calzature, perché da Mazzucchelli le scarpe e le calzature parlano per noi. Qualità, profezionalità, servizio, ottimi prezzi. Da 40 anni Mazzucchelli risulta un punto di riferimento in Besnate, imbattibile per scelta, assortimento e vastissima selezione di marchi. Ecco, mi parlava di un motto, qual è il vostro... Se non le trovi da noi non esistono, perché Mazzucchelli ha tutte le scarpe che ha in mente.